amiche e amici appassionati di moto e di moto mondiale è martedì martedì dopo un gran premio e quindi come sempre su zam tube tocca a ciapa la moto gp trasmissione in diretta da ciapa la moto via gardone 22 a milano se siete da queste parti ma anche se non siete a queste parti venite perché il posto più bello che c'è a milano allora gran premio d'argentina un gran premio d'argentina spettacolare e avvincente sotto tanti punti di vista per commentarlo insieme a me c'è collegato al telefono perché è bloccato in qualche maniera del traffico ma insomma mi fa un favore comunque e io saluto e ringrazio matteo flamini matteo buongiorno ciao matteo ciao a tutti buongiorno ho la voce un po bassa perché ho esultato troppo ma perché hai esultato dai cosa c'era da festeggiare c'era c'era tante cose la prima vittoria diversa in moto gp la mia prima da capo tecnico la prima per il team la prima per tanti ragazzi della squadra ora c'erano tanti motivi per festeggiare meraviglioso meraviglioso allora per quei pochissimi che non lo conosco matteo flamini è il capo tecnico di marco bezzecchi e per anni lo saprete è stato il il capo elettronico telemetrista telemetrista di valentino rossi allora prima di parlare del bezzecchio io voglio parlare un attimo con te proprio l'hai accennato la tua prima vittoria da capo tecnico ecco la senti di più tua assolutamente sì assolutamente sì perché comunque anche dal telemetrista avevo in mano una parte importante del risultato nel senso che la parte elettronica negli ultimi anni è diventata sempre più preponderante e importante però da capo tecnico si ha in mano tutto quello che è la moto a 360 gradi per cui in questa figura sento sento molto di più le emozioni sono amplificate diciamo così mamma mia mamma mia sai che mi emoziono io figurati tu ma dimmi una cosa matteo il lavoro è completamente diverso rispetto a quello che facevi prima dal telemetrista è tutta un'altra responsabilità immagino soprattutto sì sì sono altre responsabilità e il lavoro verde verde su numerosi aspetti prima mi occupavo solo della parte elettronica adesso oltre a seguire in parte anche un pochino quella dove tra l'altro ho un telemetrista Sergio che è fondamentale è veramente bravo è un ragazzo spagnolo un ingegnere spagnolo che è meraviglioso veramente è bravissimo seguo anche la parte legata proprio alla dinamica del veicolo quindi sospensioni setting gomme pressioni quindi il lavoro si è complicato parecchio è diventato molto più difficile ci sono tante cose da gestire insomma quindi quando le cose vanno bene sia ancora più felicità ecco che sia andato tutto bene ecco allora intanto intanto saluto ringrazio tutti quelli che sono collegati vi chiedo per favore di dirmi gentilmente se si sente tutto bene abbiamo dovuto stabilire al volo un collegamento telefonico se no altrimenti non saremmo riusciti a fare questa diretta allora Matteo l'ultima cosa su di te poi vado a parlare un po' del Bez per conoscerlo meglio per farlo conoscere meglio ecco tu hai lavorato in Ducati con Valentino nel 2011-2012 sei tornato in Ducati l'anno scorso è tutto un altro mondo rispetto ad allora? guarda la differenza è fondamentale che abbiamo trovato una moto molto competitiva dove più piloti vanno forte e riescono a portarla al limite mentre nel 2011-2012 era stata come posso dire solo Stoner riusciva a portarla al limite e quindi ci abbiamo provato abbiamo lavorato tanto abbiamo fatto tante modifiche però la situazione era completamente diversa lì si stava cercando una base e qua la base c'è già ed è ottima questa è la grande differenza ecco Matteo ma tu da ingegnere senza che mi dici quali naturalmente senza svelare chissà quali segreti ma cioè ci sono delle soluzioni che da ingegnere ti fanno ti fanno godere ti fanno stare bene ma guarda assolutamente sì assolutamente sì la Ducati insegna è diventata un po' la linea guida per tutte le altre case in questi anni Ducati è sempre stata avanti nello sviluppo avanti nell'innovazione avanti nella tecnologia e il fatto che sia lì davanti ogni weekend che venga così tante gare non è un caso dietro c'è un lavoro incredibile ragazzi fantastici in Ducati io ho conosciuto già nel 2012 ma oggi ancora di più dei ragazzi fantastici veramente bravi ok allora Matteo andiamo un attimo a parlare del Bezz il grande protagonista di questo fine settimana allora ce lo puoi raccontare prima come ragazzo com'è dentro al box come è stato l'approccio quando l'hai conosciuto se ci racconti un po' di queste cose qua guarda Marco è un ragazzo veramente squisito eccezionale uno di voi è molto spontaneo ci si sta molto bene in compagnia è un ragazzo dalla battuta pronta è un ragazzo che si fa volere bene quando è nel box davvero c'è sempre un'atmosfera felice non so come dire è espressa gioia da tutti i pori è contento di quello che fa gli piace la moto lo vedi come la guarda è entusiasta dei ragazzi che lavorano con lui non perdo occasione per passare tempo insieme a noi che dire non potrei chiedere di più veramente è veramente un ragazzo squisito e poi a spalle è anche una famiglia eccezionale devo dire ecco infatti Matteo volevo chiedere di un rapporto con Vito che è un personaggio straordinario che vediamo sempre lì a fianco Vito il papà sì 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 di fatti nel patto c'è un po' quella di dire ai genitori dei piloti tendono sempre a mettere il dito nelle questioni tecniche oppure le critiche pronte io devo dire che invece con Vito il papo di Marco è uno spettacolo è una persona che rimane nell'ombra fa il suo lavoro guarda si compiace dei risultati del figlio lo vedi che è orgoglioso ma mai che dica qualcosa che possa turbare questa armonia è incredibile il modo in cui è presente ma quasi non si vede questo è secondo me è molto importante da tranquillità a Marco ecco una persona veramente in gatto e il rapporto tra loro due com'è Matteo? ma io li vedo veramente affettati viaggiamo insieme durante le trasferte sia in auto che in aereo c'è un bellissimo rapporto fra Marco e suo papo è molto molto bello davvero che bello che bello ma lì c'è uno dei due che comanda sull'altro o no? adesso non saprei però diciamo che la cosa che mi piace di Marco è che vedo che ha la consapevolezza di quanto la sua famiglia abbia fatto per lui e questo non è scontato nei giovani d'oggi perché molti l'hanno prescontato parecchio invece Marco e questo te lo giuro mi piace tantissimo è una cosa che adoro di lui che appunto riconosce gli sacrifici che hanno fatto per farlo arrivare dov'è bello molto bello questo bello 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 grazie Matteo di questa descrizione perché è davvero molto piacevole allora cominciamo a introdurre invece l'argomento Bezzecchi pilota e lo faccio con una domanda di Luca perché tu Matteo non puoi vederlo ma ci sono tanti collegati che fanno tante domande Luca dice quanto incide l'Accademy di Valentino sulla creazione di un Bezzecchi? dite che poteva diventare il Bezzecchi di oggi anche senza la VR46? cosa ne pensi Matteo? allora io sono d'accordo perché oggigiorno è sempre molto difficile riuscire ad avere i contatti giusti le persone giuste a fianco quindi avere una VR Academy che riesce a gestire molti aspetti di quello che è la vita del pilota credo che sia diventato molto importante è fondamentale avere persone a fianco fidate con le quali puoi lavorare sapendo che stanno facendo il suo bene e questo è quello che succede in VR quindi i piloti che entrano in VR sanno di se hanno le qualità sanno di potere meglio e questo è anche questo non è scontrato è molto bello quello che ha fatto la VR quello che sta facendo con i piloti dell'Accademy sì anche perché poi Matteo mi viene da dire che se vai a girare in moto e un consiglio te lo da Valentino Rossi insomma esatto un po' di valore ce l'ha esatto no ma io ti dico ho visto come Vale ha influito su di me in questi 18 anni mi ha trasmesso un metodo mi ha trasmesso un'attitudine mentale mi ha trasmesso un approccio alle corse che te lo dico da tecnico quindi posso immaginare cosa possa essere per un pilota che si alleni insieme a lui e che ascolta i suoi consigli credo che sia un valore inestimabile davvero assolutamente ecco che pilota hai trovato tu quando il primo test che avete fatto hai detto caspita questa è forte caspita c'è da lavorare che caspita hai detto allora io ho trovato un pilota piuttosto istintivo molto caldo tra virgolette che aveva secondo me inizialmente fretta di dimostrare il suo lavoro poi piano piano ci abbiamo lavorato ci siamo resi conto che il potenziale lui stesso si è reso conto che c'era il potenziale ma che andava i risultati andavano raggiunti passo dopo passo non si poteva fare tutto in una volta una volta acquisita questa consapevolezza ha cominciato a migliorare in maniera incredibile ha iniziato ad ascoltare sempre di più i consigli miei e delle persone che ci sono vicine e ha iniziato a migliorare davvero in maniera molto veloce è un apprendimento molto rapido lo dimostra il podio già l'anno scorso in Olanda una pista molto difficile lo dimostrano la pole position in Thailandia il quarto posto a Phillip Island e in Malesia anche quelle piste molto tecniche piste molto difficili la conquista del titolo di Rookie of the Year è stata un po' la ciliegina sulla torta perché ha coronato quel percorso di apprendimento che stavamo facendo adesso stiamo continuando comunque questo percorso non è che siamo arrivati come dico sempre a Marco testa bassa a lavorare gara per gara poi a settembre-ottobre vedremo ma adesso dobbiamo ancora farne di strada ma domenica anzi sabato e domenica ti ha sorpreso in qualche aspetto? ha fatto un ulteriore passo in avanti che non ti aspettavi di qualche cosa? ma allora come posso dire mi ha colpito la velocità con cui è stato veloce siamo riusciti a essere veloci subito da venerdì e questo non è scontato sai che scusami Matteo questo è il titolo mi ha colpito la velocità con cui è stato veloce è bellissima è una descrizione perfetta perfetta perché il venerdì diventa sempre più importante con questo nuovo format in cui devi già preparare le qualifiche quindi essere dei primi dieci per partire in Q2 è fondamentale siccome la Q2 definisce sia la griglia della sprint race che quella della gara normale il venerdì diventa importantissimo e quindi è stato bello vederlo subito veloce l'altra cosa che mi ha colpito è stata il feeling ritrovato sul bagnato perché l'anno scorso dopo il bellissimo weekend a Portimao dove sul bagnato era velocissimo poi durante la stagione ci siamo un pochino persi sul bagnato e vederlo riguidare così ritrovare quel feeling mi rasserena anche per il futuro quindi ecco da tecnico se guardo in ottica in ottica 2023 se guardo la stagione che abbiamo davanti sapere che è un marco così e competitivo anche sul bagnato mi rasserena perché potrà ricafitare un weekend in cui abbiamo l'acqua ah sì sì certo ecco ma Matteo quando lui era in testa con tutto quel vantaggio ti veniva da dire vai piano o no o come dicono tanti piloti se vai piano ti distrai e cadi guarda sì l'abbiamo detto abbiamo fatto questo ragionamento è stato anche detto questa cosa cioè un pilota che va così nel momento in cui rallenta fa l'errore quindi da un lato ero come posso dire impaurito tra virgolette dalla sua velocità dall'altro sapevo che era l'unico modo per fare bene mannaggia perché vederlo così è arrivato ad avere 7 secondi e 4 se mi sbaglio sì 7.2 7.3 sì 7.4 ok ok un vantaggio un vantaggio abissale è stato bellissimo ascoltare Zarco quando diceva pensavo che i miei decimi dessero la posizione sbagliata perché ne avevo solo 3 davanti e mi davano che ero quinto e non capivo sì 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 è vero è vero è così ecco e invece scusami Roberto ti chiede quanto aiuta Bezzi il fatto di utilizzare una moto dell'anno scorso sicuramente è una moto che ha dimostrato il suo valore quindi da questo punto di vista c'è la consapevolezza di avere un ottimo mezzo però ecco più di questo direi che ci sta mettendo molto del suo ci sta mettendo molto del suo mi piace molto ma Matteo lui rispetto all'anno scorso è cresciuto tanto perché quell'anno di esperienza è fondamentale in MotoGP sì sì secondo me sì già ti dico l'anno scorso mi ha stupito per la velocità che ha avuto in certi weekend però è una moto questa che va capita e ha dei punti ha dei pregi che vanno sfruttati al 110% per poter essere veloci e Marco dall'anno scorso a quest'anno ha capito quali sono i punti di forza di questa nuova moto e la sta portando al limite in maniera incredibile ecco invece Abdou ti chiede che saluto ti chiede che da fuori il BED sembra avere uno stile di guida che si sposa alla MotoGP moderna puoi confermare questa teoria chiede Abdou ma adesso non so se sia la MotoGP moderna sicuramente quello che sta facendo i risultati gli stanno dando ragione ha una guida molto pulita riesce ad essere molto veloce in ingresso curva in staccata adora i curvoni veloci quindi che dire è molto bravo a gestire la gomma direi che sì gli ingredienti ci sono tutti ecco allora Matteo arrivano un sacco di domande Luca ti chiede aspetta che la vado a prendere dato che Matteo può vedere i dati dei piloti Ducati può dirci la differenza di guida tra Bez e Bagnaia e magari altri piloti Ducati quello che può è naturalmente certo ma guarda io ti posso dire in questo momento che sia Pecco che Marco stanno facendo la differenza è staccata sono molto veloci sono molto rapidi a fermare la moto nell'inserimento quindi questo è quello che sta facendo la differenza in questo momento ok ma è vero che Bagnaia è più forte degli altri piloti Ducati in percorrenza come dice qualcuno o no? ma Bagnaia è un grandissimo pilota e diciamo che Bagnaia è molto forte in tutte le fasi di guida non solo in percorrenza ah certo direi che Bagnaia ha ancora il riferimento per tutti noi allora invece Livio ti chiede dopo un'esperienza tra virgolette fuori di testa con VR46 il paragone con tutti gli altri piloti non è difficile? Complimento ingegnere per tutto quanto hai fatto e ti auguro per il futuro ti auguro il meglio per il futuro è un po' così Matteo passare da Valentino Rossi a un altro pilota probabilmente è difficile non è semplice anche se si chiama Marco Bezzecchi no no ma in effetti non dico che sia facile ed è il motivo anche per cui ho cambiato lavoro passando da telemetrista a capotecnico non mi sarei visto come telemetrista di un altro pilota sinceramente dopo 18 anni con Vale avevo bisogno anch'io di vedermi in una veste nuova perché per tutti sarò quasi direi per sempre il telemetrista di Vale nell'immaginario collettivo dopo 18 anni ci sta avevo bisogno di Marco mi ha dato questo e altro davvero davvero stiamo ricostruendo qualcosa di veramente bello i messaggi che ho ricevuto in questi giorni sono la prova insomma è stato bello molto bello un weekend incredibile che mi ha fatto capire che siamo sulla strada giusta ecco Alfredo invece vuole sapere se secondo te Berzi potrebbe fare una stagione migliore di quella di Nea lo scorso anno allora ricordo che l'anno scorso Bastianini vinse quattro gare in MotoGP allora la domanda è abbastanza precisa ma guarda gli ingredienti ci sono tutti però come ho detto anche ieri e anche stamattina a Bez ogni weekend ha la sua storia noi dobbiamo solo cercare di lavorare bene come stiamo facendo poi i risultati in qualche modo arriveranno non mi voglio non mi voglio prefissare nessun obiettivo per il momento perché questo direi che è stato un weekend perfetto ci saranno weekend più complicati sicuramente lo so per esperienza per cui io direi pensiamo gara per gara poi vedremo la fine ecco Matteo come reagisce lui di fronte agli imprevisti alle complicazioni si agita rimane tranquillo com'è lui guarda ti rispondo dicendoti che sabato nella sprint race ha fatto un errore e domenica ha reagito in quel modo quindi questa credo che sia la risposta più bella che ha dato beh l'errore dici in partenza perché ha perso ok aspetta che aiuto ci sei sempre Matteo ho perso Matteo perché mi è partito il telefono allora li chiamo Matteo vediamo se lo troviamo un attimo eccomi Matteo sì sì colpa mia mi è suonato il telefono stavamo dicendo l'errore l'ha commesso in partenza nella sprint cioè più che errore diciamo ha perso un po' di tempo all'inizio per cui diciamo che probabilmente avrebbe vinto e questo questo piccolo come dire nervosismo del fatto di aver mancato la vittoria che era la nostra portata l'ha fatto reagire in maniera incredibile domenica nella gara nella gara domenicale quindi lui agli imprevisti in questo momento ha dimostrato di saper reagire molto molto bene allora Simone invece dice vedere dalla tv non c'è più una differenza marcata tra la guida sull'asciutto e quella sul bagnato questa cosa si riscontra anche nel setting della moto c'è un minore una minore differenza rispetto al passato chiede Simone no allora il fatto che su questa pista si sia andati così veloci sul bagnato perché la pista sul bagnato ha un ottimo grip e le come da bagnato hanno altrettanto un ottimo grip il setting però della moto differisce abbastanza dall'asciutto dal bagnato è chiaro che la taratura delle sostensioni deve essere molto più morbida non si può pensare di andare in pista sul bagnato con un setting da asciutto quindi diciamo che i due setting sono ancora diversi ecco e invece adesso scusa soprattutto di elettronica perché la potenza va notevolmente ridotta sul bagnato ok e anche il freno motore va gestito diversamente ok ecco ho perso la domanda però qualcuno ti chiedeva se voi dal boxer vi siete resi conto di quella sbandata che ha preso io non l'ho vista in televisione non so se voi no fortunatamente l'ho vista dopo la gara se no sarei morto di un quarto ma quella scusami l'hai vista sui dati quella lì si vede sulla telemetria o no sì quella si vede molto bene dai dati ma me l'ha raccontata Marco e dopo riguardando la gara in quel momento la regia stava inquadrando il gruppetto dietro e lui era in un angolino in un piccolo quadratino in alto a sinistra e quindi essendo così piccolino rispetto al formato della tv non si è notata quella quella chiusa davanti me l'ha fatto notare Marco dopo quando abbiamo riguardato la gara in situazione ecco riguardando la gara lui come come l'ha commentata eh anche lui era compiaciuto compiaciuto del fatto di essere stato così subito veloce della bella partenza che ha fatto di essersi portato in testa all'inizio di aver imposto un bel ritmo eh gli ha ricordato molto la gara eh nella moto 3 del 2018 eh ricordiamo la sua prima vittoria nel moto mondiale proprio in in Argentina e vai in condizioni simili tra l'altro eh certo 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 senti Matteo allargando un po' la visione a eh insomma a tutta la gara e al weekend di gara allora intanto tu sei favorevole o contrario alla sprint race allora devo dire che comincio ad appassionarmi anche se per noi tecnici meccanici il lavoro diventa incredibile eh il sabato è veramente non stop dalla mattina alla sera non ci si ferma un secondo eh è veramente impegnativo però vedo che la gente appresta il pubblico appresta i piloti stessi ho visto che hanno apprezzato questo format per cui eh devo dire che dai mi sta sta iniziando a piacermi ok e invece per quanto riguarda le altre case eh allora Aprilia vabbè Aprilia è andata fortissimo sull'asciutto poi si è persa sul bagnato eh sono loro comunque i principali antagonisti di Ducati secondo te Matteo allora è un po' presto per dirlo però certamente per quello che si è visto Tino non posso certo dire che gli altri sono antagonisti Ducati e invece Matteo tu hai lavorato tantissimi anni in Yamaha eh tu vedi in generale i giapponesi in difficoltà devono cambiare il metodo di lavoro Ducati ha portato un altro approccio come la vedi tu così in linea generale guarda se posso preferirei evitare questa risposta nel senso che mi piace parlare del team in cui sono non conosco che problematiche hanno in Yamaha e quindi faccio davvero fatica assolutamente giochiamo il jolly lo dicevo soltanto in senso generale e torniamo allora al team VR46 può crescere ancora questo team eh cosa dire non si finisce mai di imparare quindi perché no io lo spero ma un team satellite può vincere il titolo mondiale e poi e poi chiudiamo perché Matteo deve andare allora direi che negli ultimi anni non è mai successo eh ci sono tante variabili che che incitano su questo eh certo è che se per caso eh dico per caso i piloti ufficiali eh non 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 avessero eh per motivi svariati eh dei risultati eccellenti da qui alla fine dell'anno perché no penso che a Ducati faccia comunque piacere che vinca una moto Ducati quindi eh eh chiaramente è importante che vincano quelle del team ufficiale ma come dicevo ripeto per svariati motivi non dovessero performare come ci aspettiamo tutti eh immagino che che una moto satellite possa sì possa vincere il mondiale perché no ecco quindi con questa considerazione di Matteo Flamini un team satellite può vincere il mondiale perché no direi che lo possiamo lasciare andare Matteo io veramente ti ringrazio tantissimo so che comunque mi hai fatto un grande piacere questo mi fa un enorme piacere ti ringrazio tantissimo Matteo e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per tutto crepi grazie Giovanni grazie a tutti e niente ci vediamo presto ma dimmi solo una cosa Dostin come lo vedi può fare molto bene anche Dostin come caratteristica della pista ma dai eh non voglio creare troppe aspettative io partiamo per fare bene poi vediamo dai partiamo con i piedi per terra e testa bassa e ci concentriamo su su tutti i dettagli poi tiriamo tireremo le somme dai benissimo benissimo Matteo grazie davvero grazie ancora di cuore e buona serata in bocca al lupo per tutto ciao Matteo ciao a tutti grazie ciao ecco amici appassionanti di moto e amiche appassionanti di moto è stata una diretta un po' anomala perché Matteo che è appena atterrato a Bologna dall'Argentina e poi c'era un incidente in autostrada si è fermato con il telefono insomma mi ha fatto veramente un regalo io spero che abbiate apprezzato ha raccontato secondo me delle cose meravigliose anche questo confronto tra fare il telemetrico non si dice così ma va ben uguale l'ingegnere elettronico e il capo meccanico il capo tecnico la differenza di responsabilità la differenza di soddisfazione nel vincere nel vincere con il tuo pilota e poi insomma ci ha raccontato molto bene Marco Bezzecchi io ho trovato meraviglioso il racconto di Marco Bezzecchi ragazzo ricordiamo 24 anni del suo rapporto con il padre Vito che è quella figura che vediamo sempre nel box a fianco di Marco ecco io vabbè io sono così un romantico però queste cose mi piacciono moltissimo e devo dire Matteo l'ha descritto molto molto bene allora direi che ciapa la MotoGP finisce qui vi ricordo che ogni martedì dopo il Gran Premio c'è questo appuntamento di solito è alle 7 un quarta le 19 e 15 oggi per questioni di tempo del mio ospite l'abbiamo anticipato alle 18 e 30 ma teoricamente teniamo sempre come orario le 19 e 15 con il mio amico Giamba eccolo qua è lui ciapa la moto è lui ragazzi ciapa la moto è lui ecco e poi assieme a Giamba stiamo provando a creare degli eventi insomma a fare che diventi il martedì un appuntamento bello per gli appassionati per venire a parlare di MotoGP e a mangiare e a mangiare naturalmente come dice Giamba che insomma che ci interessa anche di più che parlare di MotoGP allora mangiamo e parliamo di MotoGP e uniamo tutto il bello possibile allora vi do due appuntamenti su anzi uno solo su su Zamtube giovedì alle 15.30 è già programmata un'intervista con Paolo Ciabatti che ripercorre nella rubrica quella volta che quella volta che è una rubrica che io faccio raccontando degli episodi che ho avuto la fortuna di seguire dal vivo o da Bordopisto o dalla stampa dal paddock comunque dal 1992 cioè da quando ho iniziato a seguire il moto mondiale al 2023 cioè fino a oggi il prossimo appuntamento è Valencia 2006 l'incredibile vittoria di Troy Belis con la Ducati per me è stato uno degli eventi più straordinari e più difficilmente spiegabili di quelli a cui ho assistito comunque giovedì alle 15.30 Paolo Ciabatti che oggi è il direttore sportivo Ducati allora era il team manager della Ducati Superbike che accompagnò Troy Belis in quell'incredibile avventura ecco ci svela un sacco di aneddoti interessanti anche una cosa molto carina sul premio che poi percepì giustamente Troy Belis per quella vittoria ecco è l'ultimo appuntamento sarà probabilmente l'ultimo appuntamento alla settimana di ZamTube perché domani la simpatica famigliola Zamagni si trasferisce a Parigi in vacanza e insomma ci sono tante tante dirette tante iniziative sul ZamTube che potete seguire anche se non l'avete seguite in diretta ringrazio tutti è stata una puntata ripeto anomala ma secondo me molto interessante spero molto interessante e vi do appuntamento quindi ricordo a giovedì con quella volta che Troy Belis come hai fatto a vincere a Valencia io ancora me lo chiedo adesso ciao a tutti buona serata ciao a tutti